Questa anno ho deciso di fare questo corso in licensing per i beni di lusso perché volevo ampliare il mio percorso di studi. Diciamo che la cosa più interessante, secondo il mio punto di vista, era la possibilità di approcciare alle aziende in modo completamente diverso, ovvero grazie a questo corso si può arrivare direttamente al top dell'azienda senza passare attraverso molti altri livelli. Questo dà la possibilità di approcciare ai vertici dell'azienda, direttamente quindi dare a loro direttamente le nostre idee e i nostri progetti senza passare attraverso altri step. Quest'anno parteciperò attraverso il Politecnico allo scambio di doppia laurea a Shanghai, una delle aziende sponsor del corso di licensing per i beni di lusso, Newform, che è una delle più importanti aziende nel settore dei rubinati di alto di gamma, ha aperto l'anno scorso a Shanghai e avrò la possibilità di collaborare con loro durante il mio anno e mezzo a Shanghai. Un consiglio che posso dare agli studenti che volessero partecipare a questo corso è di decidersi e farlo perché effettivamente offre una concreta possibilità di trovare un lavoro anche prima della fine di questo corso. Sicuramente Oldani è stato molto interessante conoscerlo perché sono passato da non sapere nulla di lui a comunque conoscere una figura professionale che apparentemente è molto lontana dal nostro settore, quindi dal settore del design, ma vedere quanto comunque è vicina per la metodologia progettuale e comunque avere molta stima di lui per l'impegno, per l'etica, per la filosofia che ci mette nel proprio lavoro, quindi è stato interessante portare la mia esperienza di designer applicata a un settore, quello della cucina che non conoscevo. Sicuramente è interessante questo corso per la possibilità che ti dà di capire alcune dinamiche del settore dei beni di consumo di alto di gamma, ma non solo, grazie all'esperienza di alcune persone che sono proprio dentro questo settore direttamente, quindi non per sentito dire, da giornali, da testimonianze, da altre terze parti, ma dai diretti interessati, dai dei del mercato, quindi questo sicuramente è molto interessante. Cosa ti è piaciuto di più del corso? Ma dai, diciamo che principalmente quando siamo andati in Ferrari, oltre alle Ferrari e Ghini che è stato effettivamente molto interessante, anche essere andati a mangiare nella sala in cui Enzo Ferrari faceva le sue riunioni con tutti i piloti, a te invece? Sicuramente quello è stato un bel momento, mangiare lì e mangiare il tortellino fatto ad hoc come piace al signor Ghini. Sicuramente lavorare in un ambiente come lo showroom di Newfound è stato molto interessante, molto anche che ha messo a nostro agio. Secondo me è molto bello perché poter lavorare in centro a Milano dà l'opportunità, oltre di vivere un ambiente molto diverso da quello in cui viviamo di solito, dà anche la possibilità di vedere tutte le aziende che ci sono all'intorno e di avere un occhio critico anche rispetto alla realtà del centro di Milano, che normalmente non abbiamo. Poi fossimo riusciti a farci una doccia in quello che è il Tempio delle Docce, sarebbe stato ancora meglio, però... Forse un giro in Ferrari anche perché... Anche quello. Lo consigliamo per il prossimo Master. Vogliamo bene a Marco Turinetto, lo consideriamo un figo suo. No, è vero. Sicuramente il prof è molto motivante. Noi abbiamo scelto il corso per Marco Turinetto. Cioè, tacche. Savora bene l'azienda, no? Non ci chiama più studenti, ma... Senta nell'ottica, no? Nell'ottica. Vogliamo bene a Marco Turinetto. I want you. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.